Va ora in onda Meraviglie in Taschen, la rubrica in cui andiamo a scoprire le grandi meraviglie contenute nei grandi libri Taschen. Andiamo a scoprire il libro di oggi. Non c'è grande star hollywoodiana che non sia stata fotografata da Bob Willoughby, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Jane Fonda, ma Bob Willoughby fotografava con vera gioia e con vero piacere solo Audrey Hepburn. Taschen raccoglie le più straordinarie, più intime e più belle foto che Bob Willoughby ha scattato a Audrey Hepburn nell'arco di tutta la carriera di Audrey, dal 1953 al 1966, dagli esordi al grande successo di My Fair Lady. Questo è un libro davvero unico, straordinario, intimo, in cui le foto di Willoughby raccontano la Hepburn grande attrice ma anche una delle bellezze più iconiche del ventesimo secolo, una donna intima che si racconta nella sua parte più domestica, meno conosciuta, meno nota, ma più straordinariamente vera.